Ministro, quale indicazioni ha tratto da questa prima uscita? Per noi dopo dieci giorni di allenamento era importante di vedere quello in campo che ci siamo messo in testa, di fare bene oggi. Quello mi è piaciuto oggi la mentalità, l'intensità e di affrontare l'avversario veramente con una serietà e quello l'ho visto oggi. Su quali cose bisogna ancora lavorare naturalmente? No, chiaro che in fase di possesso devi migliorare la fase tecnica, i gesti, però è chiaro che dopo dieci giorni di un lavoro intenso ci saranno due o tre difficoltà con la palla, però il campo è piccolo, comunque siamo sulla via giusta e continuiamo su quella. Molti giocatori, quei confermati, già li conosceva, dei nuovi, quali impressioni ha avuto oggi? No, penso che sia importante di dire grazie a quelli che già erano qua, perché come li hanno accolti e quelli nuovi, anche quelli nuovi come stanno facendo, sono inseriti subito nel gruppo. Questo ritiro serve anche per fare gruppo subito, perché a partire dalla prima giornata sarà importante di essere una squadra compatta, di ognuno sia aiuto a vicenda, per questo è importante di essere gruppo forte. Quale bilancio tracciamo di questa prima parte di preparazione? Penso che di tirar fuori che si lavora duro, però con una mentalità molto concentrata, focalizzata su quello che si vuole raggiungere e bisogna adesso mettere il prossimo step la settimana prossima che ci proviamo bene per i prossimi giorni.